Dopo questi sei mesi di lavoro tra aziende e gli studenti del CIMBA, direi che il risultato è molto positivo. I progetti sono stati variegati come tipologia, come obiettivi, come mercati, però tutti hanno raggiunto un bel livello di concretezza, come poi si è visto nelle presentazioni. Questo vuol dire che sia aziende che studenti hanno portato a casa qualcosa di concreto e in particolare le aziende hanno portato a casa indicazioni reali su come aprire nuovi mercati, che è poi l'obiettivo principale di questo premio. E quindi questo poi ci fa ben sperare per le prossime edizioni, dove magari potremo aumentare anche il numero di aziende che partecipano e allargare anche i paesi che andremo a studiare per portare nuova linfa al territorio del nord-est e al bisogno forte che c'è di sviluppo su mercati emergenti. Grazie. Grazie.